Oltre al processo di sincronizzazione che abbiamo visto nei primi video di questo capitolo, un altro modo per caricare file online è tramite il pulsante Carica. Vediamo un esempio. Vogliamo caricare online una cartella che contiene alcune foto. Clicchiamo il pulsante Carica e scegliamo Cartella. Se si fosse trattato di un singolo file da caricare, avremmo invece scelto file. Il pannello che si apre ci permette di navigare all'interno del nostro computer fino alla cartella da caricare tramite queste piccole frecce sulla sinistra. Una volta individuata la cartella, la selezioniamo e clicchiamo il tasto OK. Questa finestra ci mostra lo stato del caricamento, sia graficamente che in percentuale, e ci indica anche il numero di file che stiamo caricando. Specie quando si tratta di cartelle o file molto pesanti, non è necessario attendere che il caricamento sia completato. Possiamo anche minimizzare questa finestra e occuparci d'altro. L'importante è non chiudere il browser, e in particolare non chiudere questa scheda del browser. Se ci proviamo, un messaggio ci avvisa del caricamento in corso e ci chiede se effettivamente vogliamo uscire dalla pagina o tenerla aperta. Nota anche che la cartella che stiamo caricando viene automaticamente creata e posizionata fra i miei file, con il suo nome originale. Al termine del caricamento possiamo chiudere questa finestra ed entrare nella cartella con un clic per trovare tutti i file caricati. I nuovi contenuti di Google Drive saranno automaticamente sincronizzati con la cartella Google Drive presente nel nostro computer. Ora immaginiamo che al posto di 12 elementi, questa cartella ne contenga una quarantina. E immaginiamo anche di voler passare queste foto ad una nostra amica. Possiamo farlo in un unico passaggio, utilizzando le funzionalità di condivisione integrate in Google Drive. Facciamo un clic destro sulla cartella, scegliamo Condividi e ancora Condividi. Nota anche che avremmo potuto selezionare l'oggetto e usare il pulsante Condividi che troviamo in alto fra i pulsanti d'azione. Il pannello di condivisione contiene un link alla cartella che si trova all'interno del nostro Drive. Tutto quello che dobbiamo fare è inserire l'indirizzo email della nostra amica nel campo Aggiungi persone. In questo caso compare anche il nome perché si tratta di un contatto presente nella mia rubrica, come abbiamo visto nel video sui contatti Google. Dopo aver inserito l'indirizzo, possiamo utilizzare questo tasto per specificare se questa nostra amica potrà modificare o solo visualizzare i contenuti di questa cartella. Infine clicchiamo il pulsante Condividi e salva. Nota che lasciando la spunta su questa casellina, possiamo stare sicuri che un'email di notifica verrà automaticamente inviata alla nostra amica. Inoltre possiamo anche aggiungere un messaggio personalizzato. Ecco che il pannello si aggiorna con le nuove impostazioni di condivisione. Giulia può ora visualizzare i contenuti della cartella presente a questo link. In qualsiasi momento possiamo sia revocare i diritti d'accesso che modificarli. Come indicato in questo messaggio però, ogni modifica deve essere salvata. Clicchiamo Fine per chiudere il pannello. L'icona della cartella mostra ora una piccola sagoma stilizzata per indicarci che quella cartella è stata condivisa. Nella visualizzazione a griglia si vede meglio. L'email di notifica ricevuta dalla nostra amica somiglia a questa. Riconosciamo il testo e questo non è altro che un link che, se cliccato, rimanda ad una pagina dove è possibile visualizzare le foto direttamente sul suo computer. Questo conclude una panoramica generale dei servizi che Google Drive ci mette a disposizione. In caso di bisogno, ricordati della funzionalità di condivisione che abbiamo visto in questo video. Riconosciamo il testo